Che la situazione sia molto complicata e che non sia per nulla facile trovare soluzioni adeguate è ormai sotto gli occhi di tutti. A distanza di un mese dal giro di vite imposto con l'ultimo DPCM, la diffusione del contagio non è calata, come era nelle attese. Così come è sotto gli occhi di tutti il fatto che non esiste accordo fra le forze politiche su come poter uscire da un tunnel di cui per il momento non si vede la fine. Nella giornata di ieri il responsabile del CTS Agostino Miozzo, in audizione presso la Commissione Cultura della Camera, ha ribadito la necessità di riaprire le scuole al più presto, ricorrendo allo scaglionamento degli orari di ingresso e di uscita. Per parte sua il Ministro della Salute Roberto Speranza ha fornito alcuni dati sul vaccino, affermando che il Governo ne ha già prenotate 200 milioni di dosi, ma ha aggiunto il Ministro il vaccino non sarà affatto obbligatorio. Sulla questione della obbligatorietà sembra però non esserci accordo neppure all'interno dello stesso Ministero della Salute, perché la sottosegretaria Sandra Zampa sostiene invece che per i docenti il vaccino dovrebbe essere obbligatorio. Il contrasto sul punto riguarda il fatto che c'è chi sostiene che l'obbligo di vaccinazione potrebbe presentare profili di incostituzionalità. Dopo le dichiarazioni di Speranza e di Miozzo, il Senatore della Lega Mario Pittoni è intervenuto per rimarcare gli errori commessi in questi mesi, a partire dalla mancata installazione di adeguati sistemi di aerazione nelle scuole, fino alla inesistenza di un piano dei trasporti scolastici. Sul tema della data di riapertura è intervenuta negli ultimi giorni anche la Commissione europea per redarguire i Paesi membri che vogliono riaprire le scuole troppo celermente. E il riferimento all'Italia, dove già si parla di rientrare il 14 dicembre, è del tutto evidente. La Commissione, al contrario, chiede di allungare di almeno una settimana le festività natalizie o di ricorrere ad un periodo di didattica a distanza. Ma per il momento non è ancora dato di sapere cosa succederà nelle scuole dal momento che il nuovo DPCM non è ancora stato firmato dal Presidente Conte. La sensazione è che la mancanza di accordo fra le forze politiche sia un elemento che non facilita la soluzione dei problemi. E non è da escludere che, come già avvenuto in altri momenti difficilissimi della storia passata, gli stessi partiti, magari sollecitati dal Presidente della Repubblica, decidano di dare vita ad un governo di unità nazionale, con l'obiettivo minimo di superare l'epidemia con misure condivise. Ovviamente su tutto questo noi continueremo a tenervi informati, quindi continuate a seguirci con l'obiettivo minimo di superare l'epidemia con l'obiettivo minimo di superare l'epidemia. Grazie. 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 Grazie.